Innesima lite nel contenitore Mediaset di Barbara Durso.Oggi su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5, il contenitore Mediaset condotto da Barbara Durso Nella prima parte del programma, oltre ad affrontare dei temi d'attualità, lei di Cologno ha intervisto via collegamento il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini I due hanno parlato del decreto sicurezza, e delle leggi contro coloro che maltrattano e violentano le donne Successivamente, nella seconda parte si è affrontato un tema più leggero e proprio in quei momenti è scattata la lite Pomeriggio 5. L'ite tra Lucia Bramieri e Angelo.A Pomeriggio 5 si è parlato di seduzione e di MIF Gli ospiti di Barbara Durso erano Carmen Di Pietro, la giornalista Patrizia Groppetti, l'ex mister Italia e Lucia Bramieri Mentre in collegamento da Roma la giornalista Monica Setta e Angelo.E proprio quest'ultimo ha presentato a lei di Cologno il telegatto vinto anni fa Inoltre, l'uomo accusato la Bramieri di essersi appropriata ingiustamente del premio Affermazioni che hanno fatto salire il sangue al cervello alla nuora del compianto Gino La donna, infatti, ha accusato l'uomo di farsi gli affari propri e di ritirare quello che ha detto visto che non si conoscono La lite è degenerata al punto che Lucia ha esclamato una serie di parolacce in diretta Per portare la calma è dovuta intervenire la padrona di casa Barbara. Alla fine la trasmissione è continuata tranquillamente Ero